5, 4, 3, 2, 1, vai Dani, 20 in ritardo, tornate a sinistro 50 destri per tornate a destra Non tarderà anche questa, vai 50, sinistra, 3 più, 2 tempi 20, destra 3 più bravo, 3 più qua, per sinistra e destra 3 meno, 3 meno dopo per tornate a sinistro 20, destra 5, 50 sinistri e tornate a destra in ritardo a più che questo 300 misti per tornate a sinistro 20, destra 4 per sinistra 4 meno in destra 3 20, tornate a destra 20 20, sinistra 3 per destra 5, 50 sinistra 3 per destra 3 dopo in sinistra 3 meno gira per destra 3 dopo in sinistra e destra 3, 20 20, 20 al rail, destra 3, 50 sinistra 3 più per destra 3 per destra per destra 3 per destra 4, in sinistra 3 gira dopo per sinistra 4 per destra 4, 4 per destra 5 lunga tutto pieno qua dai sinistra 5 per destra 3 per destra 3 più per destra 4 per destra 4 per destra 4 e destra 4, 50, sinistra 4, per destra, e sinistra 3, e destra 5, fin sinistra 3, 3, questa 20, destra 3 più, fin sinistra 3 più, per destra 3, e per sinistra 3 più lunga, 3 più lunga questa, per sinistra 5, 50, sinistra 5 ancora, 100, destra 4 più di 3, 3 C qua, per sinistra 5 lunga, fin sinistra 3, e per destra, e sinistra 3 più, 3 più questa è, sinistra, destra e sinistra, e destra, attenzione al cartello, destra 3 meno, ritardala, si, 20, sinistra 3, 100, sconnessi, fidete, dai vai, punta da dove, sinistra 5, e subito si carica a sinistra, 50, destra 3 più, vai vai Daniele, preghietene vai, vai vai vai, 50, destra 4, in sinistra 3 più, 20, destra 5, vai vai vai, destra 5 qua, e 100 ancora, e attenzione sbassa, destra 4, si, vai, per sinistra 4 più lunga, e 50, alla cara, sinistra 3 più, si, per, destra 3 più, 50, destra 4, per, sinistra 3 più, e subito destra 3, vai 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 vai, finie, bravissimo